Allora, riprendiamo questa nostra introduzione al concetto di ciclo. Questo è il primo ciclo che abbiamo scritto e di fatto è un modo per insegnare o far sì che il programma conti da 1 a 10, è un modo per usare la variabile di controllo del ciclo come contatore, inizio da 1 e c- uguale a 10 mi dice fino a quanto devo contare, in qualche modo è come se io vi dicessi ripeti 10 volte una parola, voi mentre ripete la parola con le dita contate 1, 2, 3, 4, 5 per essere sicuri di quando arriverete a 10. E qui lo facciamo fare semplicemente giocando con una variabile che via via si incrementa. In questo caso, in questo esercizio, è facile vedere a priori quante iterazioni farà il ciclo, cioè una variabile che parte da 1 e arriva fino a 10, si incrementa di 1 ogni volta, farà 10 volte. Quindi questo è un caso di un ciclo in cui, per definizione, per come abbiamo definito il problema, stampa i numeri da 1 a 10, so quando inizio il ciclo, di fatto so già quante iterazioni farò. In questo caso è 10, ma se io anche avessi deciso che il numero di iterazioni fosse 15, lo metto in una variabile, qui ci metto n, anzi una costante, in questo caso vedo che farà n iterazioni, se n vale 15, stamperà i numeri tra 1 a 15. Non cambia molto ovviamente, a lui non cambia nulla. Il ruolo C e n è diverso, perché vedete che n lo tratta come costante, cioè dentro il ciclo n non cambia. Potrei usarlo, potrei dire C, 1 di 15, 2 di 15, 3 di 15, quindi lo posso usare nella print ad esempio, ma non lo cambio. L'unica cosa che cambia rispetto alle variabili usate nella condizione è la variabile C che via via si incrementa, aumenta di 1 ogni volta e prima o poi diventerà, ma non più minore uguale ad n e quindi mi permette di uscire dal ciclo. Ci sono altri casi in cui invece non è così facile, evidente, ovvio, prevedere quante iterazioni il ciclo dovrà fare. Prendo come esempio quello che è riportato qua nelle slide, dove, adesso ce lo ricostruiamo, non lo sentiamo sulle slide, ma il problema da risolvere è questo, tu hai 10 mila Euro e li investi da qualche parte che ti diano un interesse, questi soldi ti rendono un interesse pari al 5% all'anno. Allora, la domanda che ci facciamo è, entro quanti anni il mio capitale iniziale di 10 mila Euro sarà raddoppiato? Sì, con due logaritmi lo risolvi, però proviamo a impostarlo in modo, diciamo così, in modo algoritmico. Quindi noi vogliamo, facciamoci un altro file interesse, ok? E calcola entro quanti anni un capitale, anni, raddoppia. Allora, possiamo partire con un'ipotesi di capitale iniziale, lo possiamo chiedere all'utente uguale in plot di input di capitale iniziale, posso chiedere all'utente qual è il tasso di interesse, plot di input, tasso di interesse. Decidiamo poi come trattarlo, questo tasso di interesse, cioè se è del 5% l'utente scrive 5 o scrive 0,05. Magari per comodità l'utente, facciamogli scrive il tasso di interesse percentuale e poi ci penseremo noi a convertirlo. Ok, dati questi numeri io voglio sapere quanti anni ci mettono a raddoppiare questo capitale, quindi ad arrivare dal capitale iniziale al capitale finale che sia almeno il doppio del capitale iniziale. Allora, questi sono i valori che mi servono. Cosa devo fare? Cosa so io? Io so che ogni anno rispetto al capitale che ho investito dovrò sommare una quantità di interessi pari al tasso di interesse moltiplicato per il capitale investito. quindi, cominciamo a scriverlo così informalmente, il capitale dell'anno 2 sarà uguale al capitale dell'anno 1 più il capitale dell'anno 1 per tasso di interesse. Ho 10.000 euro e quindi all'anno 2 avrò poi c'è 10.000 euro, sperando che non siano scomparsi, più 5% di 10.000. All'anno 3 le cose si ripetono semplicemente il capitale dell'anno 3 è calcolato partendo dal capitale dell'anno 2 e applicando l'interesse del capitale dell'anno 2 ovviamente, l'interesse composto ogni volta il capitale cresce e quindi l'anno successivo anche la quota di interessi che avevo guadagnato l'anno precedente diventa un capitale su cui si calcolano i nuovi interessi. E quindi abbiamo che questo capitale per anno aumenta sempre più e a un certo punto diventerà, speriamo, uguale o maggiore al capitale finale e a quel punto posso andare a vedere quante volte ho fatto questo conto per scoprire quanti anni sono dovuti passare affinché questo capitale raddoppiasse. Quindi per sapere quanti anni passano devo ripetere più volte un'operazione di questo genere, la stessa operazione con valori diversi. E qui quando riconosco che devo fare la stessa operazione con valori diversi sto dicendo imposto un ciclo. E per impostare un ciclo rispondo alle quattro domande di prima. Il corpo, la condizione, l'inizializzazione e l'aggiornamento. Tutte queste quattro alla fine sono sfubature dell'altra domanda che è chi è la variabile di controllo? Qual è la variabile che mi fa evolvere il ciclo? La variabile che determina se devo andare avanti oppure no? Allora io dovrò, come è che mi ho detto prima parole, devo ripetere questo finché non mi accorgo che il capitale di un certo anno supera quello obiettivo. E quindi in realtà è l'ammontare del capitale che mi controlla il ciclo, che mi dici ok devi ancora aspettare un anno o due o tre oppure sei già ricco. quindi in questo caso, fatemelo trasformare in commento questo, noi abbiamo la variabile di controllo possiamo chiamarla il capitale, che non è il capitale iniziale né quello finale, è quello intermedio che evolve. Ok? E ripetiamo il ciclo, ripetiamo quel calcolo dell'interesse finché il capitale corrente dell'anno in corso continua a essere minore del capitale finale. Finché non ho ancora aggiunto il mio obiettivo, devo far passare anni, devo aggiornare interesse. Ok? E cosa devo fare? Ogni anno devo calcolare il nuovo capitale alla fine di quell'anno, prendendo il capitale all'inizio di quell'anno più l'interesse, quindi più l'interesse lo calcolo con capitale per tasso di interesse diviso 100, se il tasso di interesse è espresso in percentuale. Cioè io ho due variabili mentalmente, attenzione che qua c'è il ragionamento. Il capitale è all'inizio dell'anno che mi genera un capitale nuovo alla fine dell'anno. Poi ripeto per l'anno successivo, quindi nell'anno successivo quello che era il nuovo capitale diventerà il capitale di partenza, per passare l'anno successivo. Passare l'anno successivo cosa vuol dire? Significa passare alla ripetizione, all'interazione successiva di questo ciclo. Perché se io scrivessi così e ripetessi il ciclo così, non so se era la tua domanda, forse sì, ripeterei la stessa cosa ogni volta, cioè la variabile capitale non cambierebbe mai, non varierebbe mai. Quindi io qui calcolo, fatemi scrivere un commento, calcolo il nuovo capitale, il capitale fino anno partendo da quello inizio anno. E poi però mi devo preparare il salto di anno e quindi per il salto di anno il capitale uguale nuovo capitale. Quindi il capitale di inizio del prossimo anno è uguale a quello di fine dell'anno corrente. Il nuovo diventa vecchio all'interazione successiva. Poi io ho scritto due istruzioni, ma si potrebbe scrivere una sola, ovviamente. Però visto che è la prima volta, noi dobbiamo sempre pensare a ciò che faccio nell'interazione corrente, quindi quali sono le variabili che mi arrivano e su cui devo lavorare in questa interazione corrente, ci devo fare del lavoro. E poi in chiusura, cioè subito prima di chiudere il blocco, quindi tornare a valutare il ciclo successivo, devo predisporre, dicevamo, le variabili, come prima mi ha fatto c uguale c più uno, devo prepararmi il contatore già contando uno in più perché poi ricomincia da capo. Quindi in realtà io avrei potuto benissimo, normalmente lo farò scrivere qua, capitale uguale capitale più questa formula qua, anziché non mi serve questa variabile intermedia che ho creato e subito dopo la rimetto uguale, la rimetto dentro capitale, basta una variabile sola. Però, soprattutto se è un problema un po' nuovo, lo affrontiamo cercando di andare un passettino per volta. uno è il calcolo e l'altro è la preparazione per l'anno successivo. Quindi questa variabile che ogni anno viene incrementata di una quantità speriamo positiva, prima o poi supererà il capitale finale e quindi farà sì che io possa uscire dal ciclo. Ovviamente questa variabile capitale dovrà avere un valore iniziale, cioè quando faccio la prima iterazione del ciclo, qual è il valore del capitale? Eh beh, sarà il capitale iniziale. Quindi scrivo capitale uguale capitale uguale, non meno. Quindi tutto il mio ciclo lavora su questa variabile capitale che viene inizializzata prima del ciclo, usata come condizione per capire quando mi devo fermare, usata nel corpo del ciclo per calcolare l'interesse, è aggiornata con un nuovo valore in preparazione della prossima iterazione. Ci sono tutti e quattro gli ingredienti. Quindi alla fine potrò dire che fuori dal ciclo, che fuori dal ciclo, esco dal rientro, potrò dire che il capitale finale è di capitale. Io qui sto usando il valore di questa variabile di controllo anche fuori del ciclo, non è che quando finisce il ciclo questa variabile scompare, si autodistrugge, rimane lì e rimarrà col valore che aveva all'ultima iterazione che guarda caso è lo stesso valore che ha reso falsa la condizione del while di linea 14. Quindi sta roba qui, prima eseguiamola poi la vediamo passo passo. Capitale iniziale 10.000, tasso di interesse 5% e a un certo punto avrò un capitale finale di 20.789 euro. È bellissimo perché mi dice tutto tranne quello che avevo chiesto, che volevo sapere, cioè dopo quanti anni. Per sapere dopo quanti anni anni mi servirà tenere traccia, mentre incremento il capitale, tenere traccia anche di quanti anni passano, quindi quanti giri faccio nel mio ciclo. Quindi ogni volta che aggiorno il capitale aggiornerò anche gli anni che sono passati. e alla fine potrò dire che dopo tot anni il capitale finale sarà quel 20.000 che abbiamo visto prima. Allora questo anni è una variabile diciamo così contatore, lo stiamo usando per contare. Lei non è una variabile che sta controllando il ciclo perché il ciclo va avanti, decide di andare avanti o no sulla base solamente della variabile capitale. Però è un valore che raccogliamo via via iterando il ciclo. L'unico modo per sapere quante iterazioni ho fatto è ogni volta che ne faccio una me la segno. La conto. La conto in una variabile che parte da zero e poi via via si incrementa. Regola quasi generale. Ogni volta che modifico una variabile dentro un ciclo devo sempre chiedermi ma il valore iniziale prima del ciclo, alla prima iterazione quanto vale. Quindi qui ho incrementato una variabile anni che non c'entrava con la variabile capitale che controlla il ciclo, però anche qua lo incremento rispetto a quale valore iniziale. Ogni giro lo incremento rispetto al giro precedente. Ok. Ma al primo giro deve avere un valore sensato già all'inizio. Allora, chiaro che qua io mi sono chiesto per un attimo se mettere zero oppure uno. Qual è il valore iniziale di questi anni che passano? zero o uno. A me è sembrato corretto zero perché oggi erano zero. Poi quando passerà un anno incasso l'interesse ma è passato un anno e quindi alla fine della prima iterazione del ciclo anni varrà uno. poi se devo incassare l'interesse una seconda volta anni da uno diventa due e così via. E allora se proviamo a eseguire di nuovo questo programma mettendo sempre 10.000 come capitale iniziale mannaggia questo si dimentica sempre la dimensione. E 5 come il tasso, 5% come il tasso di interesse mi dirà che dopo 15 anni il tuo capitale finale sarà raddoppiato. Un pochino più che raddoppiato ma non posso calcolare il momento esatto in cui raddoppia perché va di anno in anno. ciò vuol dire che ho incrementato 15 volte la variabile anni a partire dal valore zero che avevo inizialmente il che vuol dire per come sono messe queste due istruzioni questa e questa che ho applicato 15 volte la formula dell'interesse. le istruzioni messe così sono obbligato a farle sempre tutte e due insieme. Quando faccio uno faccio anche l'altro e viceversa. Quindi e queste le farò una volta per ogni iterazione nel ciclo wide. Quindi questo 15 è anche il numero di giri che ho fatto nel mio ciclo wide. Se volessimo vedere cosa succede più in dettaglio proviamo ad andare in modalità debug quindi metto un breakpoint qua dopo gli input che sono solo noiosi ed entro in modalità debug quindi sotto mi chiede capitale iniziale 10.000 tasso di interesse 5 e a questo punto il programma si ferma perché ha raggiunto questo breakpoint della riga 6 capitale iniziale uguale 10.000, tasso uguale 5 calcoliamo il capitale finale eseguo l'istruzione 6, vado avanti avendo eseguito l'istruzione 6 mi dice che il capitale finale è 20.000 che è il mio obiettivo e fin qua mi ha solo fatto una moltiplicazione. Poi qui entriamo nella parte relativa al ciclo in cui ci prepariamo inizializziamo le variabili che verranno usate e aggiornate dentro il ciclo la variabile capitale, la variabile anni evolveranno durante il ciclo le uso e le modifico e quindi visto che le uso e le modifico devo dare un valore iniziale altrimenti avrei un errore subito alla riga 15 e quindi imposto capitale iniziale all'anno 0 allora questo, adesso fermiamoci qua se per caso il ciclo while non venisse mai eseguito perché magari quella condizione è già falsa in partenza e può capitare, no? non in questo caso per come abbiamo costruito le variabili ma può capitare allora chiediamoci se non venisse mai eseguito il valore di questi due signori è giusto? ha senso? se dovessi passare direttamente a questa print se facessi 0 iterazioni a me pare di sì perché direi dopo 0 anni il capitale finale è uguale al capitale iniziale 10.000 quindi questo mi aiuta anche a ragionare sull'aver correttamente inizializzato quelle variabili cioè se in qualunque momento io mi fermi quelle due lì prese insieme hanno senso mi dicono una cosa vera dopo 0 anni ho 10.000 euro eh sì, appena messi quindi il valore iniziale beh sicuramente è un valore che tecnicamente mi serve per poter fare i conti nella prima iterazione ma è anche il valore finale che avrei se il ciclo venisse eseguito 0 volte può essere eseguito 0 volte un ciclo? sì, non c'è nulla di particolare come una if può essere vera o può essere falsa una while è una condizione che normalmente la prima volta che ci arrivo sarà vera e quindi mi permette di entrare ma normalmente non è detto possono esserci dei casi in cui è già falsa in partenza e quindi il ciclo while non viene eseguito neanche una volta e non è un problema lo vediamo anche nel diagramma di flusso che avevamo visto prima se questa condizione se io arrivo dall'ingresso da fuori e questa condizione C la trovo già falsa senza preoccuparmi senza dare nessun errore tranquillamente vado ad eseguire il blocco D senza aver mai eseguito manca una volta il blocco B è un caso che può capitare ovviamente dipende da chi è questa condizione C nel nostro conteggio C minore di n se avessi messo n uguale 0 o un numero negativo questo ciclo while non sarebbe mai stato eseguito n uguale 0 stampo inizio fine senza niente in mezzo quindi può capitare non è un errore ok? ok però in realtà noi non siamo in quel caso siamo in un caso in cui per fortuna il capitale finale è maggiore del capitale iniziale quindi possiamo entrare nel ciclo while allora vedete che qua adesso il cursore di debug è fermo sulla riga while e si sta chiedendo ok se io adesso quando premerò il tastino vai avanti controllerà questa condizione e capirà se è vera o falsa allora possono capitare due cose se la condizione è vera mi sposto alla riga 16 se la condizione è falsa mi sposto alla riga 23 sappiamo che la condizione è vera e infatti vado alla riga 13 alla riga 13 nella quale calcolo il nuovo capitale che dopo il primo anno sarà 10.500 euro e mi ricordo che è passato un anno anno uguale 1 a questo punto il capitale che era 10.000 euro adesso deve diventare 10.500 perché è passato un anno quindi aggiorno questa variabile e dopo che ho finito il corpo del ciclo automaticamente l'esecuzione ritorna all'istruzione while per ricominciare l'attaccato per verificare di nuovo questa condizione la condizione è la stessa ma i valori sono cambiati capitale finale è sempre 20.000 non è cambiato ma capitale è passato a 10.500 questo è quello che dicevamo un ciclo ripete più volte le stesse istruzioni ma ogni volta con valori diversi e quindi potenzialmente questa condizione che la prima volta l'ho trovata vera e la seconda volta potrebbe essere falsa potrebbe essere vera non lo so andiamo a vedere è vera e quindi andiamo avanti ricalcoliamo il capitale che diventa 11.025 gli anni che diventano 2 e torniamo su il capitale è 11.025 ancora minore di 20.000 e ormai lo sappiamo che dobbiamo fare 15 volte il giro avrei potuto scegliere un interesse un pochino più alto questo capitale via via aumenta bastasse solo cliccare così e adesso ho un nuovo capitale che è già il 20.700 e lo ottengo perché sono passati 15 anni allora mi predispongo per la prossima iterazione che sarebbe la sedicesima torno su questa volta capitale è 20.700 capitale finale è 20.000 quindi questa condizione sarà falsa essendo falsa smetto di ciclare e vado ad eseguire la prima istruzione fuori dal ciclo quindi a differenza di prima che quando cliccavo qua dalla riga 15 passavo alla 16 io adesso mi aspetto dalla riga 15 di saltare direttamente alla riga 23 perché? perché questa condizione adesso con questi valori delle variabili dopo aver iterato 15 volte rendono la condizione falsa e infatti arrivo non eseguo più il ciclo e vado ad eseguire il blocco D insomma l'istruzione che segue il ciclo stesso la prima istruzione al di fuori del corpo che non fa più parte del corpo dimmi sì allora la domanda era se io avessi qua più condizioni da combinare con degli operatori end or assolutamente sì continua a valere la regola generale dove ci sta una variabile ci sta un'espressione dove ci sta un'espressione ci sta un'espressione complicata non c'è nessun problema la cosa importante è garantire essere sicuri che questa condizione prima o poi possa diventare falsa se io mi fossi dimenticato questa variabile qua questa istruzione qua alla 20 sarei andata avanti all'infinito senza mai aggiornare questa variabile no? quindi devo scrivere le cose che iniziano vere ma poi prima o poi diventano false perché devo uscire da questo ciclo prima o poi però possono essere complicate quanto vogliamo noi potremmo anche dire sì vabbè però io magari tra 20 anni comunque lo smetto l'investimento e allora dirò che il capitale minore è capitale finale and anni minore di 20 e allora in questo caso continuo a ciclare solo se il capitale è ancora basso e gli anni sono ancora pochi ma appena la prima delle due diventa falsa esco o perché ho aggiunto il capitale o perché sono passati 20 anni esco in quel caso quindi sicuramente lo posso posso combinare anche in modo ricco le varie condizioni ok sappiamo già cosa stampa perché l'abbiamo stampato qua ok quindi questi due semplici esempi avevamo un esempio fin troppo banale ma la prima volta non c'è mai nulla di banale in cui sapevo già quante iterazioni fare e quindi la condizione di ciclo era semplicemente conta i giri e quando hai raggiunto i giri che devi fare fermati nel secondo caso effettivamente non avremmo saputo dire 15 che il numero di anni che dobbiamo passare era 15 lo scopro facendo cioè la condizione di uscita è una condizione che dipende dall'evoluzione delle variabili e non semplicemente da un contatore va beh il ciclo while per quello che in introduzione vi ho detto che l'istruzione while è una istruzione più generale perché permette di costruire cicli di qualunque tipo con qualunque tipo di condizione di di esecuzione vabbè sulle slide questo esercizio qua è sviluppato in due o tre pagine ma noi ecco qui ci sono alcuni esempi noi abbiamo visto l'esecuzione in modalità debug però una cosa che mi invito a fare è provare a fare il debug a mano su un pezzo di carta cioè per capire almeno le prime volte come funzionano queste cose cioè dire ok alla prima iterazione le mie variabili quanto valgono poi alla seconda iterazione eseguo queste istruzioni alla fine che valori avrò e così via quindi basta semplicemente prendere un foglio di carta e scrivere i valori di queste variabili anno uguale anno più 1 allora si valora 7 cancello il 7 e ci metto un 8 quindi in qualche modo possiamo farci debug a mano con carta e penna anche senza avere il computer davanti e a volte ci aiuta perché riusciamo a vedere proprio visivamente i risultati al primo giro al secondo, al terzo e così via e vedere che al primo giro anno vale 0 quindi il numero di giro e il valore di anno non sono esattamente la stessa cosa è un più o meno 1 che è la dannazione tutte le volte che si fa si conta qualcosa bisogna sempre capire dopo ad esempio dopo 15 iterazioni anno vale 15 e la montata è questo quindi il tipo di ciclo wild più semplice è quello governato da un contatore il primo che abbiamo fatto stampa i numeri da 1 a 10 dove la variabile di controllo ha essenzialmente lo scopo esplicito di contare il numero di iterazioni e quindi avrà un confronto di solito con una costante che mi dice hai finito oppure una condizione generale più generica che a un certo punto diventerà falsa ok? allora a questo punto non posso prevedere facilmente quanti giri fare ma semplicemente uscirò quando sarà ora di uscire qui ci sono alcuni cicli wild che contengono possono contenere degli errori o delle stranezze allora ad esempio cosa allora proviamo a chiederci che cosa fanno che cosa fa il primo il primo frammento di codice che cosa fa possiamo rispondere in due modi possiamo andare avanti istruzione per istruzione e immaginare i valori di queste variabili oppure possiamo incollarle in python e provare ad andare avanti passo passo però una volta che l'abbiamo fatto chiediamoci che problema stiamo risolvendo lui ha due variabili i e total di cui la variabile di controllo di questo ciclo è total la vedo qua il while mi dice che esco quando total è minore non è più minore di 10 quindi il mio punto di attenzione è la variabile total cosa fa total? ogni volta total uguale total più i quindi si incrementa ma di una quantità variabile non si incrementa ogni volta di uno si incrementa ogni volta di una variabile i quindi a dispetto di quanto potrebbe sembrare da questa linea questo ciclo while non viene eseguito 10 volte perché total non si incrementa di uno e che cos'è questo i che va ad incrementare il total? i è una variabile che parte da zero e viene incrementata di uno ad ogni iterazione è un po' contorto questo che ha scritto queste robe cioè i è una variabile che fa zero, uno, due, tre, quattro total invece è una variabile che parte da zero e poi ogni volta somma a se stessa il valore di i quindi se i faceva zero, uno, due, tre, quattro total farà total più zero più uno più due più tre più quattro quindi si incrementa farà dunque zero poi zero più uno fa uno uno più due fa tre tre più tre fa sei sei più quattro fa dieci e poi continuerebbe se non ci fosse total minore di dieci farebbe dieci più cinque quindici quindici più sei ventuno e così via sarebbe la serie sarebbe la serie dove ogni termine è la somma degli i interi precedenti questa serie la interrompiamo quando il valore dell'elemento è minore di dieci nel secondo caso c'è un piccolo errore che però crea un grosso danno che anziché la somma la sottrazione e dove questi valori vabbè saranno gli stessi ma con segno meno davanti il problema è che qua abbiamo sbagliato la condizione di uscita perché se total parte da zero e poi gli aggiungo sempre dei valori negativi sarà sempre minore di dieci meno uno meno tre meno sei meno dieci meno quince meno ventuno e via non si fermerà mai questo ciclo quello che dicevamo prima devo garantire che questa situazione questa condizione prima o poi diventi falsa se parto da un numero negativo e lo confronto con un segno di minore non sarà mai falsa e quindi ho fatto un ciclo infinito mi sono dimenticato che questa somma poteva anche avere dei valori negativi e quindi questo minore non era giusto oppure l'altro caso sotto questo non è di per sé un errore ma ci evidenzia il fatto in cui la condizione total minore di zero alla prima esecuzione è già falsa perché total vale zero e zero non è minore di zero non è strettamente minore quindi in questo caso il ciclo while non viene eseguito mai se venisse eseguito una volta verrebbe eseguito infinite volte proprio per quel discorso del minore di prima perché c'è il meno uno c'è il meno i però non ci entra proprio perché è minore di zero in realtà questo ciclo non serve a niente questi due sono errori di programmazione il primo perché mi dà un ciclo infinito il secondo perché non esegue mai il ciclo probabilmente se l'ho scritto perché mi serve eseguirlo e qui ci sono altri altri esempi in cui ho provato a ribaltare la condizione while total maggiore di 10 e questo è un possibile errore che facciamo pensando cioè io penso faccio un ciclo e vado avanti e mi fermo quando il totale è maggiore di 10 però in realtà nel while non devo mettere la condizione per fermarmi ma devo invece mettere la condizione per continuare ok? quindi devo scrivere sempre la condizione per ripetere il ciclo e la condizione per uscire dal ciclo invece sarà esattamente il contrario quindi non mettiamo qua la condizione di uscita ma mettiamo sempre la condizione di permanenza ok aspetta mi ricordavo l'altro errore a cui fare attenzione è sempre per quello che vi ho parlato della diciamo così ho battezzato questa variabile di controllo del ciclo perché deve comparire quattro volte in questo caso vabbè a parte che manca l'inizializzazione della variabile balance ma manca l'incremento manca l'aggiornamento ok? quindi se di quei quattro ingredienti inizializzazione, condizione, corpo e aggiornamento ne mancasse uno andate a cercare perché c'è qualcuno che non va quindi è un check molto semplice per essere sicuri di aver fatto il ragionamento fino in fondo dove era? no, non è qua allora torniamo a questo ciclo 1 questo è un modo per scrivere i cicli con un contatore diciamo così, gestiti da un contatore in pratica non ci sarà mai nessuno o quasi nessuno che lo scriverà in questo modo ma si preferisce usare un contatore partendo da zero quindi la stessa cosa la scriverei così è la stessa identica cosa dove però anziché contare 1,2,3,4 fino a 10 compreso il 10 conto vedo che parte da c uguale a zero conto zero 1,2,3,4 fino a 9 compreso ma 10 escluso alla fine sono sempre 10 sono sempre 10 iterazioni che farò semplicemente il valore della variabile di controllo anziché iniziare da 1 inizia da 0 e quindi se dovessi effettivamente stampare i numeri da 1 a 10 dovrò stampare non il valore di c ma l'intero successivo c più 1 ok? allora può essere scomodo se devo stampare i numeri a partire da 1 ma è molto più comodo contare a partire da zero perché è più coerente con le altre parti del linguaggio cioè in una stringa i caratteri li conto a partire da zero e quando faccio uno slice, un range delle stringhe prendo il primo elemento numerato a partire da zero e come valore terminale metto l'ultimo elemento escluso quindi qui il valore di n è escluso non farà mai nessuna iterazione col valore di c uguale a n mentre invece prima l'n era compreso quindi non c'è nulla di sbagliato col primo ciclo però se facciamo il secondo e poi questo c dovremmo usarla e adesso lo vediamo per un secondo per indicizzare il carattere di una stringa mi viene molto più comodo perché conta come conta il resto del linguaggio ok? quindi ci abituiamo quando facciamo un ciclo governato da un contatore a farci che il contatore parte da zero compreso quindi la prima iterazione viene fatta col valore zero anziché uno del contatore e il valore finale lo metto escluso col minore e non col minore uguale quindi l'ultima iterazione verrà fatta con valore finale meno uno alla fine il numero di iterazione è lo stesso quindi non ci cambia nulla ci risparmiamo un carattere perché non dobbiamo scrivere questo uguale scriviamo meno e ad esempio il nostro giochino sul find a questo punto lo possiamo fare ricordate prima avevamo detto ma se la n comparisse molte volte come posso fare a risolvere questo problema? beh adesso che conosciamo i cicli lo possiamo fare a me vengono in mente almeno almeno due modi uno becerò e l'altro un pochino più complicato cioè cosa voglio fare? voglio risolvere questo problema find cicli quindi da John Wayne John John cerco non la seconda occorrenza ma tutte le occorrenze di n nel nome allora cosa posso fare? beh potrei fare un ciclo dimentichiamo un attimo la funzione find la funzione count poi la possiamo magari riprendere facendo quelle funzioni ma pensiamo proprio semplicemente alla stringa fatta di tanti caratteri allora io potrei partire dal primo carattere j maiuscolo e chiedermi nel senso j è una n? no ok andiamo avanti secondo carattere o è una n? no h il terzo carattere è una n? no n il quarto carattere è una n? sì ok ne ho trovato uno contiamo che ne abbiamo trovato uno e anzi diciamo anche dov'è quindi io potrei avere un ciclo in cui conto le posizioni dei caratteri della stringa partendo dal primo carattere fino all'ultimo carattere della stringa vedete che viene bene partire da zero e usare il minore perché l'end name mi dice quanto è lunga la stringa ma ovviamente l'ultimo carattere non è l'eng ma è l'eng-1 qui ci vuole un minore l'ultima posizione è quella minore non uguale alla lunghezza della stringa e quindi per ciascuna posizione facciamolo per gradi possiamo stampare la singola lettera la m di pos quindi io posso andare a estrarre uno per uno i caratteri della stringa semplicemente con un ciclo che mi conta le varie posizioni dei caratteri stessi inizializzazione controllo corpo e incremento pos uguale pos più uno incremento o aggiornamento in generale allora in questo caso cosa sto facendo? facciamo un run sto stampando una per una di fatto sto facendo una iterazione del mio ciclo for per ciascun carattere della stringa la prima volta la j la seconda la o la terza la h la terza la n e posso anche scrivere che questo carattere che questo carattere è in posizione pos no? dico che la j è in posizione 0 la o è in posizione 1 la h è in posizione 2 e così via la n è in posizione 3 finora non ho ancora guardato la n ho semplicemente impostato un ciclo per scorrere per scandire le posizioni della stringa per iterare sulle posizioni della stringa sui caratteri della stringa a questo punto posso concentrarmi solamente sulle posizioni della stringa in cui c'è il carattere che sto cercando quindi questa print non la faccio sempre ma la faccio solamente se name di pose cioè il carattere su cui mi sono concentrato in questa iterazione è uguale a cerca allora posso stampare questa cosa quindi non le stampo più tutte ma stampo solamente più quelle solamente quelle che diciamo per le quali la condizione è vera cioè quelle che sono uguali alla lettera che sto cercando e allora mi dirà ovviamente che la n è in posizione 3 poi c'è in posizione 8 poi c'è in posizione 14 poi c'è in posizione 19 ok quindi molti dei delle ricerche delle analisi che possiamo fare ad esempio sulle stringhe partono da questa idea qua cioè prendo un carattere alla volta e controllo cos'è e decido poi se volessi sapere quante n ho trovato in fondo basterà semplicemente avere un contatore che inizializzerò da 0 perché 0? perché prima di iniziare prima di vedere il primo carattere della stringa sono sicuro che non ho visti e poi se trovo almeno un carattere ogni volta che trovo il carattere incremento il contatore questo contatore incrementato messo qui non conta il numero di iterazioni che faccio ma conta solamente il numero di iterazioni in cui c'era la lettera giusta e quindi alla fine del ciclo potrò poi stampare che ho trovato contavolte la stringa n quindi se lo rieseguo mi dirà la stessa cosa di prima e alla fine mi dice che ha trovato contavolte quattro volte la stringa n ci piace? allora io questa print l'ho messa qui ok? adesso vi chiedo se l'avessi messa qui nella posizione che chiamiamo 2 o se l'avessi messa qui nella posizione che chiamo 3 e anziché nella posizione 1 in cui l'ho messa è uguale cosa è meglio? meglio nella 1 perché l'ho fatto io ma perché nella 2 e nella 3 non va bene? perché non è? non capisco scusa non è? no perché è inserito nel ciclo lo so o vedo che è inserito nel ciclo cosa c'è di male a inserire questa print nel ciclo visto che avevo già quest'altra nel ciclo? perché la ripete stampa ad ogni iterazione in questo caso se io avessi quella 2 la posizione 2 lei ogni volta che trovo un carattere mi dice ho trovato 0 volte la stringa n ho trovato 0 volte la stringa n ho trovato 0 volte la stringa n dopo che l'ho trovata allora vediamolo commentiamo questa la 3 e la 1 e vediamo solamente la 2 guarda quanto è noioso messa qua è ovviamente dentro il ciclo e quindi ogni volta che faccio un ciclo stampa questo messaggio e stampa questo messaggio ovviamente ogni volta col valore parziale quindi solamente l'ultima volta avrò il valore vero del risultato tutto il resto è rumore, fastidio questo lo faccio perché molte volte trovo esercizi in cui uno ha calcolato qualcosa e subito lo vuole stampare aspetta tu non puoi stampare che hai trovato 4 volte finché non sei arrivato fino alla fine della stringa allora lì mi puoi dire se sono 4 se sono 7 se sono 0 non puoi stamparlo o dirmi ne ho trovata una appena ne trovi una ok? quindi dobbiamo sempre ricordarci o pensare ok io devo questa variabile conta avrà un suo valore sensato definitivo solo dopo la fine del ciclo non all'ultima istruzione del corpo del ciclo all'ultima istruzione del corpo del ciclo avrà un valore che all'iterazione 2 è un pochino migliore rispetto all'iterazione 1 all'iterazione 7 sarà un pochino più aggiornato rispetto all'iterazione 6 ma solo quando ho fatto tutte le iterazioni posso stampare questo valore e quindi solo quando il ciclo sarà finito un pochino meno peggio ma sempre schifo fa la posizione 3 in questo caso cosa c'è? ma io non è che lo stampo tutte le volte per stampare schifezza però quando lo aumento lo stampo quando cambia vedete che qua la 12 e la aspetta che sono fuori asse la 13 e la 12 entrambe lavorano su conta quindi la 12 incrementa conta e la 13 stampa il valore di conta di nuovo però lo stampo una sola volta ma la stampo tante volte ho trovato una volta la stringa n ho trovato due volte, ho trovato tre volte, ho trovato quattro volte la stringa n perché ogni volta che passo di lì perché ho trovato una n effettivamente, giusto? mi dice anche quante ne trovate e quante ne trovate finora perché non ho ancora finito di guardare i caratteri della stringa ok? quindi ci sono alcune operazioni che non devo fare dentro il ciclo ma devo aspettare che il ciclo termini e viceversa prendiamo questa print qua chiamiamola A1 perché è un'altra cosa succederebbe se io la mettessi qua sotto? quindi A2 cerco le posizioni, le cerco, conta uguale, conta più uno, va bene mi hai detto che mettere la print dentro il ciclo crea rumore allora io la metto fuori forse non va bene perché in realtà questa stampa dovrebbe... ci sono due problemi qua uno è che io voglio sapere tutte le posizioni in cui ho trovato la n e qui anche solo guardando il codice vengo che questa istruzione alla riga 18 viene fatta una volta sola quindi se ci sono 4n quella print lì può essere fatta una volta sola non è che si ricorda quali erano tutte le posizioni no, cioè pose è uno solo e quindi me ne stamperà al massimo una sola quale mi stamperà? l'ultima sperate voi run errore perché errore? aspetta cosa ho sbagliato? cioè sbagliato sì perché dovevo metterla sopra ma ad intuito voi mi avete detto vabbè visto che ne trova diverse io quello che ti stampo ha finito il ciclo si ricorderà l'ultima che hai visto no perché lui fa quello che gli dico quindi anche quando ha trovato l'ultima poi lui incrementa pose deve incrementarlo perché sennò non mi uscirebbe mai da questo ciclo e quindi guardando questa riga 8 quando esco dal ciclo ci metto la mano sul fuoco che pose uguale alla lunghezza della stringa perché non è più minore e se pose è uguale alla lunghezza della stringa name di pose è un carattere che non esiste più perché sto andando fuori quindi anche se noi pensiamo qui alla 18 stampo quello che avevo visto alla 10 ma l'abbiamo solo pensato noi nel codice non c'è scritto quello lui non è che si ricorda quel valore di pose che aveva alla riga 10 nell'ultima iterazione in cui l'ifera è diventata vera e beh poi allora se lo scriverà solo il programma se sapesse queste cose ok quindi ci sono alcune informazioni che sono valide nel momento in cui le vedo e le devo gestire subito quando è tardi e troppo tardi cioè quando il ciclo è finito ormai non posso più tornare indietro altre informazioni che invece devo aspettare di aver visto tutti gli elementi per poterli fornire l'ultimo quiz di oggi è su conto uguale a 0 quindi chiamiamolo B1 questo cosa capirebbe se mettessi conto uguale a 0 qui o dentro la if possiamo anche mettere qui B2 o B3 il problema è lasciamo perdere la posizione B3 che non ti verrebbe neanche voglia di metterlo ma se io lo mettessi qua allora se mettessi pose uguale a 0 qua dentro è facile nel senso che il programma si blocca perché quando arriva alla riga 8 trovo una variabile pose non definita questa è la variabile di controllo e quindi se non la inizializzo quando leggo la condizione di sicuro la trovo sbagliata quindi è un errore che non potrò mai fare nel senso che mi blocca prima ma conta non è una variabile di controllo è una variabile in più che ho usato per tenere conto di quello che mi serviva quindi il programma parte normalmente che fa? perchè non si ferma? ah no, pose uguale a pose più 1 c'è... quello è sbagliato qua poso uguale a 0 ah ho messo... scusate poso uguale a 0 lì grazie allora se io mettessi questo conto uguale a 0 qui mi trovo alle posizioni di n ma alla fine mi dice che la stringa l'ha trovata una sola volta questo per dirti per dirvi che è fondamentale inizializzare le variabili del ciclo usate dentro il ciclo ma vanno inizializzate prima dell'inizio del ciclo e non dentro il ciclo stesso perchè altrimenti ogni volta che faccio la prossima iterazione questa variabile riparte da 0 e quindi alla fine troverò solamente ovviamente 1 se n era l'ultimo carattere ma 0 se n non fosse l'ultimo carattere cioè in qualche modo facendo così io cancello la memoria di ciò che mi ricordavo dai giri precedenti ad ogni giro quindi un giro riparto da capo e il risultato... faccio tanto lavoro e il risultato che ho è esattamente quello che avrei se guardassi solo l'ultimo carattere e non avessi mai guardato tutti gli altri ok? quindi questi sono errori che possono capitare di impostazione ragioniamo bene prima, durante e dopo il ciclo cosa fare prima? le inizializzazioni cosa fare durante? gli aggiornamenti cosa fare dopo? oppure lavorare sul dato appena scoperto cosa fare dopo? invece il riepilogo i totali che si possono stampare solamente dopo ok? ci vediamo domani